È stata una bellissima contestazione, vincere contro la Virtus Bologna. È stata una partita di grande sacrificio, soprattutto in difesa. I primi due quarti abbiamo giocato sia bene in attacco sia bene in difesa. Rispetto alla partita contro la Fortituto abbiamo dato più soluzioni nella difesa del pick and roll, che anche loro hanno fatto andare oggi. Penso che la chiave della partita è stata la difesa, limitare Umè per i tre quarti iniziali. Poi l'ultimo si è svegliato, ma ha fatto anche dei canesti veramente difficili. Sapevamo che loro sarebbero rientrati, però per fortuna, ma anche per merito nostro, ci stavamo comunque più o meno 20 e abbiamo di solito tutta la partita. È stata una partita dove tutti quanti hanno messo il loro contributo. Quindi dobbiamo essere contenti di questa partita, ma adesso subito con la testa contro i canati, che non sarà una partita facile, anzi penso che forse è più importante vincere quella che queste, perché sono quelle che noi dobbiamo portare a casa. Questa, non dico che se la perdevamo ci poteva stare, però il nostro obiettivo è vincere contro quelle sotto di noi. Grazie.